Sciame sismico nel mare antistante e l'arcipelago eoliano, una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata alle ore 2.11 al largo delle isole Olie. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV, ha riferito che l'ipocentro è stato a 30 km di profondità e l'epicentro a nord-ovest dell'isola di Alicudi. Nelle ore successive, alle 3.11, alle 3.33 e alle 6.06 nella stessa zona, si sono verificate altre scosse di magnitudo compresa tra 2.0 e 2.4. Il primo terremoto, l'evento di magnitudo 4.1, è stato avvertito anche dalla popolazione dell'arcipelago. Nella stessa area, successivamente, sono state registrate altre sei scosse di media intensità. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.